Oggi vi voglio parlare di una fotocamera che un po' mi ha sorpreso. Per certe cose in positivo, per certe altre un po' meno e andremo a vedere quali sono. La fotocamera in questione è la Fuji X106, una fotocamera che io al momento non ho nelle mie mani, perché qui non è ancora neanche arrivata, chissà quando e se arriva. Il fatto che io debba parlare di una fotocamera senza averla in mano dipende in ampia misura dal fatto che il mio canale non è ancora abbastanza seguito. Per cui se volete vedere delle recensioni, se volete vedere più recensioni con il prodotto in mano, iscrivetevi adesso al canale in maniera tale che i brand comincino a inviarci qualcosa da mostrare. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia e quando viene annunciato qualcosa, quando esce un nuovo modello, io come tutti gli altri creator diamo una snasata e cerchiamo di vedere se c'è qualcosa di bello, qualcosa che può servire a noi o qualcosa di cui possiamo comunque parlare sul canale, perché comunque secondo me la fotografia è anche community, è anche dibattito, quindi è importante parlare delle cose perché cercando di capire tutti quanti insieme da che parte vogliamo andare e noi consumatori finali abbiamo un grande potere nell'orientare il mercato, perché con le nostre scelte d'acquisto, se facciamo vedere che un certo modello vende e un altro no, il mercato fotografico si orienterà da quella parte, quindi abbiamo un nostro peso anche noi. Andiamo a vedere che cosa ha di bello questa fotocamera e che cos'è invece che assolutamente non mi ha convinto. Le parti che non mi hanno convinto le lascerò alla fine, quindi vi consiglio di vedere questo video per intero. Cominciamo però con le cose belle, perché comunque ce ne sono. Innanzitutto il design, la fotocamera è bella da vedere, design compatto e retro soprattutto, e questa è una cosa che mi piace tantissimo. Questa secondo me è la strada giusta, io spero che più brand l'ha già fatto, mi sembra Nikon, che ha fatto uscire un modello su questa falsa riga, proprio un modello retro con le ghiere, una sensazione di scatto un po' più autentica. Secondo me questa è un'ottima strada da percorrere, perché comunque ci riporta a un corpo macchina più semplice da usare, meno tecnologia, meno stupidaggini, però abbiamo tutte le ghiere, le ghiere dei tempi, le ghiere degli iso, le ghiere dei diaframmi, anzi per il diaframma c'è una rotella sull'obiettivo, quindi proprio sensazione retro, bellissimo da questo punto di vista, queste sono le fotocamere che vogliamo vedere. Ma anche in ambito professionale dico, cioè se ci fossero delle ammiraglie con un sistema di ghiere come questa io impazzirei veramente. Siamo in presenza di uno stabilizzatore nel corpo da 6 stop, quindi per una fotocamera piccolina di questo tipo che non sta sommando più tipi di stabilizzazione, ma ne ha uno solo da 6 stop, è interessante, vorrei vedere come performa, perché come già detto molti stabilizzatori diciamo ibridi che sommavano stabilizzatore nel barilotto dell'obiettivo e stabilizzazione sul sensore. Io non sono ancora convintissimo, mi sembra una tecnologia, non dico acerba, però mi restituisce ancora un risultato dove certe volte io che ci sto lavorando vedo un artefatto, vedo qualcosa che non mi piace quando uso queste stabilizzazioni sommate. Sarei curioso di vedere se questa volta con questo sistema di stabilizzazione si sono fatti dei passi avanti, sarei appunto curioso di vederlo, peccato che non ce l'ho. A quanto pare abbiamo anche finalmente o purtroppo a seconda dei punti di vista abbiamo anche l'intelligenza artificiale all'interno di questo corpo macchina, sembra infatti che sia dotato di un sistema di autofocus che riconosce la scena con l'intelligenza artificiale. Ora come ben sapete io non sono tanto a favore di queste diavolerie perché io sono un po' vecchio stile da questo punto di vista, a me piaceva usare il corpo per mettere a fuoco, cioè metto a fuoco ricompongo, metto a fuoco col punto di messa a fuoco centrale e ricompongo, oppure addirittura metto a fuoco a mano e scatto. A me piaceva così, mi piaceva tanto. Mi rendo anche conto che in ambito professionale può fare comodo un ausilio del genere perché se io sto scattando per il mio piacere e faccio quel cavolo che voglio e mi prendo il tempo che mi serve. A me piaceva farle queste cose ed è perfettamente normale che sia così. Essendo io abituato a fare le cose col mio corpo, con la mia testa, sono abituato a gestire le cose in un certo modo. È evidente che chi entra adesso nel mercato fotografico è ben contento di dire tutta quella parte lì io non la devo più neanche imparare perché la fa la macchina in automatico. È normale, io difendo quello che ho imparato perché ho fatto fatica impararlo. Chi entra adesso e non lo deve imparare e riesce a fare le cose senza, sarà probabilmente più contento così. Secondo me gli manca poi un pezzo, anche solo di esperienza d'uso, gli manca una parte in cui si è divertito meno di me e di altri. Quindi da quel punto di vista secondo me è un peccato. Però devo anche dire che un'intelligenza artificiale come questa che riconosce la scena e capisce da sola dove mettere a fuoco in automatico, potrebbe essere tanta roba ragazzi perché questo vuol dire che se io mi sto divertendo metto il punto di messa a fuoco singolo e scatto come voglio io, ma se io sto lavorando e devo tracciare un soggetto in una situazione confusa e potrebbe fare tutto la macchina da sola e magari anche durante una ripresa video e questo è tanta roba. Uno dei motivi per cui io adoro le mirrorless è la messa a fuoco continua durante il video. Quello non ha prezzo, assolutamente. Altre cose che non posso non menzionare, ovviamente siamo su Fuji quindi abbiamo le simulazioni di pellicola, bellissime ragazzi, le simulazioni di Fuji di pellicola sono stra belle, qualche collega mi ha fatto vedere delle simulazioni che ha fatto lui e sono, secondo me, il motivo per usare Fuji sono le simulazioni di pellicola, al di là del piacere di utilizzo. Perché io sto cominciando a ragionare in quest'ottica, io sono stufo di scattare in RAW tutte le volte, perché è inutile. La maggior parte delle volte a me non serve il RAW. Io scatto in RAW, poi mi metto su computer, applico i miei filtri base e lo esporto. Poi guardo la differenza tra la fotografia RAW così com'era e la fotografia esportata, le differenze sono pochissime. Quindi a quel punto veramente mi conveniva avere una conversione JPEG magari con un filtro pellicola che mi piaceva e la foto era già pronta in macchina senza bisogno di fare niente. Quindi da quel punto di vista secondo me Fuji ha veramente una marcia in più rispetto agli altri e qui abbiamo più di dieci simulazioni pellicola. Ce ne sarà sicuramente qualcuna che andrà bene per i nostri scopi. Ora mi urge far presente una cosa. Qui siamo in presenza di una fotocamera che è pensata per fotografia, è evidente. Mi pare che lo stesso sito di Fuji la pubblicizzi come una macchina pensata per la street photography, quindi è una fotocamera. Però nel suo essere pensata per la fotografia comunque ci tira fuori un file da 6.2k a 10 bit. Quindi ok non è pensata per fare video, però se la mettiamo in modalità video ci tira fuori un file anche piuttosto bello, piuttosto ricco. Parlando di novità vere e proprie, almeno io questa è la prima volta che vedo una cosa del genere, noi qui siamo in presenza di un viewfinder molto particolare perché abbiamo un viewfinder digitale, pienamente digitale elettronico, che quindi secondo me è la cosa più pratica da usare perché noi guardiamo dentro nell'oculare e vediamo esattamente il frame che stiamo catturando, come siamo abituati sulle mirrorless e su altre macchine. Quindi da quel punto di vista niente da dire. Abbiamo la possibilità di disattivare il digitale però e di avere un oculare analogico con un errore di parallasse perché è sfasato, però insomma ci si abitua, ci si fa tranquillamente la mano e oltretutto abbiamo una guida che ci fa vedere qual è la porzione di ripresa che stiamo realmente catturando. Quindi da quel punto di vista direi è un'ottima idea questa, avere l'oculare ibrido è tanta roba secondo me perché questo taglia la testa al torre e mette d'accordo tutti. Io vorrei che tutte le camere ce l'avessero ibrido in questa maniera perché ci sono delle cose che mi piacciono, delle mirrorless con il loro oculare digitale, poche per la verità, le cose che mi piacciono sono tutte le informazioni che puoi avere sempre a monitor anche nell'oculare. Quello mi piace perché avere cosa ne so l'istogramma piuttosto che il volume, vedere il volume anche dentro nell'oculare quando stai facendo una ripresa, sono tutte cose che poi puoi attivare o disattivare però poter scegliere di averle oppure avere che ne so il false color direttamente nell'oculare, insomma ci sono un sacco di cose che si possono vedere con un oculare digitale che ovviamente un oculare analogico non si potrebbero vedere, però è anche vero che io sono abituato al feeling di guardare dentro al vetro e per esempio quando io sono in studio e sto facendo fotografia con i flash, guardare dentro nell'oculare e spesso e volentieri avere la sensazione che la macchina stia ricampionando l'immagine perché è buia e quindi non mi sta restituendo quello che io vedo veramente con i miei occhi ma lo sta ultra processando per schiarirmelo e poi quando scatterò con i flash verrà fuori un'altra cosa ancora, quindi ho tre cose diverse, questo mi ha sempre infastidito molto e quindi avere la possibilità di scegliere se voglio digitale o naturale è una cosa, è veramente un plus considerevole secondo me. In più, e qui c'è un'ulteriore genialata, abbiamo la possibilità di unire i due mondi perché noi possiamo utilizzare l'oculare analogico e avere un rettangolino in basso all'interno del quale vediamo una simulazione del digitale, quindi abbiamo la videata grande che è puramente analogica, abbiamo un'anteprima piccolina che è quello che vedremmo se fossimo in digitale, così veramente vediamo, cioè vediamo l'esposizione in tempo reale, vediamo l'inquadratura in tempo reale nel rettangolino digitale, però abbiamo la nostra bella sensazione di analogico nell'oculare grande. Questo è veramente figo, io questo, ve lo giuro ragazzi, io questo lo vorrei su tutte le mie macchine, su tutte le mie mirrorless quanto meno, sulle reflex no perché è inutile, ma tenetevi forte perché siamo arrivati alla parte in cui vi devo menzionare le cose che invece non mi piacciono di questa macchina e ce ne sono, vabbè la macchina perfetta non esiste, poi io qui mi sto basando su quello che ho visto online, quindi ho guardato le specs e dalle specs vi dico che ci sono alcune specs che secondo me non funzionano, ve ne dico qualcuna in ordine sparso. Partiamo dal monitor, il monitor è bello, ok, è un bel monitor con una bella risoluzione, però ha due grossi problemi secondo me, il primo problema è che da quello che ho capito gran parte del monitor non viene utilizzata, cioè c'è una buona parte di monitor che rimane col bordino nero e vediamo l'immagine piccola solamente nel centro, non è una cosa drammatica per carità, però è come se un pochino di monitor venisse sprecato e da quel punto di vista mi piacerebbe capire se c'è la possibilità di gestirla questa cosa, perché per esempio su alcune fotocamere che io ho gli posso dire se voglio riempire tutto oppure no, gli posso dire se voglio che la foto riempia l'intero viewfinder lasciando le impostazioni in sovrimpressione oppure gli posso dire se voglio che l'immagine sia piccola con le informazioni esterne, chissà se c'è modo di gestire questa cosa, non lo so, lo scopriremo, se qualcuno lo sa ce lo dica nei commenti. Un'altra cosa che assolutamente non mi piace è l'articolazione del monitor, per farvi capire siamo in presenza di uno di quei monitor che si articola solamente in questo modo, quindi non possiamo fare questo, che è la cosa che a me piace di molte macchine, compresa quella che sto usando in questo momento, io adesso sto registrando con la mia Canon EOS R7, ho flippato il monitor, ho tirato fuori il monitor in maniera tale che io mi vedo in ripresa, io guardo nell'obiettivo ma se io guardo lì mi vedo. Con un display di questo tipo ovviamente non è possibile, questo è un display pensato per sola fotografia, non è pensato per fare video e non è pensato neanche per fare selfie secondo me, quindi da un certo punto di vista dovrebbe piacermi perché è una macchina dedicata alla fotografia con un display che serve solamente per fotografia e questo fatto in questo modo serve solamente per abbassarsi, serve per fare delle fotografie dal basso, tiltando il monitor si vede quello che si sta facendo senza bisogno di sdraiarsi in terra. Ora, io mi sono sdraiato in terra per buona parte della mia vita per fare queste cose, quindi è una roba che in qualche maniera anche mi mancherebbe perché l'epicità di sdraiarsi per terra come un cretino per fare una foto è una roba che io reclamo, cioè è mia, l'ho vissuta, mi piace. È bello poter non farlo più, quindi è bello avere il monitor tiltabile, sono d'accordissimo, io poi posso scegliere se sdraiarmi in terra con tutti che ridono oppure se farla da inginocchiato usando il display, però preferisco comunque i monitor pienamente articolabili come quello di R7 e di tante altre macchine che sono più pensati per il video, certo, però mi danno più possibilità, io preferisco avere più possibilità, tanto già che è una parte fragile e basculante, a quel punto preferisco che faccia tutto quello che voglio invece che solo qualcosa. Altra cosa che non mi convince, veniamo al vero punto dolente secondo me di questa macchina, ovvero la risoluzione. Sì, perché ragazzi lo so che è un discorso trito e ritrito, però secondo me vale la pena affermarlo con forza una volta di più. 40 megapixel, 40 megapixel su una macchina come questa, secondo me non ne vale assolutamente la pena, 40 megapixel è una fotografia gigantesca, è enorme, la maggior parte delle mie fotocamere sta tra 20 e 26 megapixel, ne ho una da 30, no ho mentito, ne ho due da 30, però vabbè il punto è che 40 è veramente troppo, io quando scatto a 20 megapixel già ho tutto quello che mi serve, quando scatto a 26 è una libidine perché è grossa, quando scatto a 30 sono in difficoltà perché ok è bella, è grossa, è un bel file, però pesa, pesa tanto, 40. Cioè 40 megapixel vuol dire che tu vai in giro con la tua fotocamera e prima che tu te ne renda conto hai riempito la schedina e devi smettere di scattare. 40 megapixel vuol dire che tu torni a casa, scarichi le foto e il computer ti dice ritorna tra 30 minuti perché sto scaricando le foto e tu vai a fare la spesa e torni dopo 30 minuti ha finito di scaricarti le foto, vuol dire che tu carichi le foto dentro Lightroom o Capture One o Camera Raw o quello che vuoi e il computer ti dice impossibile proseguire perché l'operazione è troppo grande. Sono troppo pesanti le fotografie da 40 megapixel, io mi domando quando è che i produttori di fotocamere connetteranno il loro prodotto col fatto che poi quelle foto devono essere gestite perché non si può fare il ragionamento di dire allora abbiamo la tecnologia per fare fotografie da 1000 megapixel, ergo facciamolo. No, tu devi anche pensare che poi c'è un utente finale che dovrà gestirlo quel file, tu devi anche pensare che non mi stai facendo un favore se mi dai dei file così grandi perché è una percentuale infinitesimale di utenti che ancora fanno la rincorsa ai megapixel e che vogliono zoomare all'inverosimile, croppare all'inverosimile le immagini. Ok che tu me la stai vendendo per street questa fotocamera, è ok che hai un sistema di zoom digitale che sfrutta quella risoluzione per farmi la zoomatina, quindi la giustificazione potrebbe essere questa e in parte ci sta, vi dico in parte ci sta, però prendo questo come esempio colpiscine uno per educarne 100, io vedo che tutti stanno facendo delle fotocamere con troppi troppi megapixel e a me i megapixel presi fini a se stessi potrebbero anche piacere, ma è il peso di quel file che non tollero più, sono troppo pesanti, sono troppo grosse, diventa impossibile da gestire, diventa difficile da gestire in questa maniera e lo dico sia per gli amatori sia per i professionisti, diventa veramente complicato da gestire un flusso di lavoro con dei file così pesanti. Ora, se io sono un amatore totale, questa macchina probabilmente non la compro, perché compro qualcos'altro di più carino, di più digitalone, pieno di tecnologia, così mi dà l'illusione di saper già fare le cose, se sono un principiante totale non sono capace, la macchina del genere io non la consiglio anche perché ha un bel costo, quindi io consiglierei di partire da qualcos'altro, ma non è che lo devo consigliare io, un amatore alle prime armi tendenzialmente non prende questo tipo di macchina, ed è un amatore alle prime armi quello che ricerca i megapixel in maniera spasmodica però secondo me, perché un amatore navigato o un professionista sa quanti megapixel gli servono e salvo rarissimi casi, 20 sono sufficienti. Io, adesso facciamo un sondaggio, facciamo un sondaggio, perché sapete che in video precedenti io ho sempre detto che a me i megapixel piacciono, mi servono perché io stampo anche, però con 24, 26, io sono sereno, sono a posto, facciamo un sondaggio, quanti di voi hanno bisogno di 40 megapixel? Ditemelo vi prego, perché io spero di vedere almeno 10 persone che mi dicono no, per me è indispensabile avere 40 megapixel, io spero che mi diciate così, perché così mi rassicuro e dico ah va bene, allora le case stanno andando incontro a una reale esigenza di mercato, ma voglio vedere se ce ne sono più di due che mi dicono a me piace avere 40 megapixel, voglio vedere se ci sono, fatemelo sapere in un commento. Altra cosa, sempre sulla stessa falsariga, la risoluzione video, ok 6.2k 10 bit, 10 bit fantastico, bellissimo, mi piace da matti, io ormai voglio 10 bit dappertutto, voglio 10 bit anche nella caffettiera se si può, però non possiamo esimerci dal porci una domanda, ma poi lo uso? Perché non so voi, ma io le due volte che ho provato a girare in 6k, mi è andata in blocco la macchina molto in fretta, perché comunque si surriscalda, perché comunque se non hai la memory card da 200 euro non riesci a registrare quei formati, ti devi prendere un hard disk esterno, devi registrare sull'hard disk esterno e poi siamo sempre lì, fai 10 minuti di ripresa in 6.2k, poi dici dai buttiamolo sul computer, guardi la rotellina sul computer e dopo un po' ti dice ritorna fra 2 ore e 40 perché sto caricando il file, non possiamo gestirli questi file, lo dico a tutti i produttori, lo dico a Canon, lo dico a Sony, lo dico a tutti quanti, non possiamo gestirli questi formati, non possiamo gestirli, ma né amatori né professionisti non possiamo gestire questi formati, sono troppo pesanti e sono inutili, non c'è una destinazione per questi formati, nessuno gira un video in 6k e butta fuori un video in 6k nel nostro settore, si fa nel cinema, si fa magari nella televisione, nella nicchia per cui state producendo queste fotocamere, nessuno gira a 6k, nessuno gira in 8k, poi ripeto ci saranno le eccezioni, fatemi sapere se qualcuno di voi gira in 8k a RAW, fatemelo sapere, vi prego, però secondo me non c'è nessuno che usa quei formati e quindi la mia riflessione è, va bene, bello che mi stai dando questa cosa, però visto che nessuno poi la usa, non si poteva non metterla quella cosa magari e tenermi il prezzo un po' più basso, è una riflessione così, perché se tu mi dai tutte quelle cose e mi dici guarda le specs di questa macchina sono 40 megapixel, 6k, ok il prezzo è giustificato dalle specs, ma se tu mi avessi messo 30 megapixel e mi avessi messo 4k e me l'avessi fatta pagare 300 euro in meno, secondo me io e tanti altri saremmo stati più contenti, ne avremmo comprate di più, è una riflessione, butto lì. Detto questo ragazzi ovviamente mi rendo conto che questa è una macchina un po' particolare, un po' fuori dagli schemi che serve una nicchia ben precisa che secondo me non è quella dei professionisti e non è neanche quella degli amatori principianti, secondo me questa è, sta andando a ricoprire un po' la stessa nicchia di certe laica secondo me, cioè sta ricoprendo la nicchia di un amatore un po' evoluto, un bel po' da anaroso che vuole una macchina figheggiante per le vacanze, per andare in giro e per poter dire io sono in vacanza, me ne frego di tutto perché sto facendo lo struscio a San Moritz, ma se voglio tiro fuori un cannone bestiale con cui faccio delle foto da paura. Secondo me il target è un po' quello perché, e anche qui fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ma io non riesco a immaginarmi di fare un matrimonio con una macchina come questa, non riesco a immaginarmi di fare sport con una macchina come questa, non riesco a immaginarmi di fare still life, non riesco a immaginarmi di fare pressoché niente, questa è una macchina con cui fai street, con cui giochi, ti diverti, è un bel giocattolo costoso. Secondo me 40 megapixel e 6k non vanno bene per il target di riferimento, è troppo, è troppo, 30 megapixel e 4k era più che sufficiente e 4k difficilmente verrebbero usati in ogni caso, che la gente gira ancora in full hd, quindi questo è un ragionamento che vi metto lì. Detto questo amici, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, qualcuno di voi l'ha ordinata, qualcuno di voi ha qualcuna delle versioni precedenti, fateci sapere come vi trovate, globalmente secondo me siamo ovviamente di fronte a un buon prodotto fatto bene con tutte le caratteristiche solite a cui Fuji ci ha abituato, io diciamo che non avendo la macchina in mano posso solamente limitarmi a constatare che ci sono delle cose buone, delle cose che a me personalmente non piacciono e delle cose che invece oggettivamente secondo me non vanno bene. Però parliamone come sempre nei commenti perché se in tanti di voi mi dite non hai capito una mazza di cosa serve questa macchina in realtà a noi piace tantissimo così, vi prego ditemelo, ditemi così perché così capisco che effettivamente c'è una nicchia di mercato che non conosco, che non ho valutato, parliamone giù nei commenti. Signori io vi invito come sempre a iscrivervi al canale per rimanere aggiornati perché quando mi commentate qualcosa io poi rispondo con uno shorts verticale, è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video.